bene carissimi amici ancora ben ritrovati insieme con me sul mio canale youtube allora quest'oggi parliamo di software dei miei grandissimi programmi e soprattutto di uno dei software più belli che vi consiglio di prendere che il software 2 software 2 e software 3 sono due capolavori il software 2 lo dice il nome stesso pensate che gioca in soli due colpi di gioco cosa vuol dire che voi ad ogni estrazione avrete il calcolo automatico della previsione come è successo nell'estrazione di sabato 6 aprile ok e cosa è successo cari amici che questo programma ha dato a colpo secco il 5 a napoli in quinta posizione perché vi do anche le posizioni determinate e l'ambo secco 5 65 che è il quarto ambo consigliato dal programma oltre chiaramente agli ambi in terzine perché poi facciamo le terzine e tutto il resto questo programma cosa fa ad ogni estrazione vi calcola un ambata 4 ambi e due abbinamenti per il termo a formare le terzine i colpi di gioco li guardate sono due quindi voi avete ogni previsione da giocare due colpi o la va o la spacca è un software velocissimo rapidissimo che gioca soltanto in due colpi ma questo programma io non l'ho presentato il mese scorso l'anno scorso 5 mesi fa 6 mesi fa questo programma ha diversi anni sulle spalle è un programma che ha diversi anni sulle spalle che riesce a centrare gli ambi al primo colpo gli ambi termi gli ambi in terzina gli estratti determinati in uno due colpi è qualcosa di fantastico se voi andate in giro prendete un software mettetemelo in gioco dopo 4 anni dopo 5 anni andate a vedere se dagli ambi a colpo o gli ambi in due colpi non dà più nulla ci metto la mano sul fuoco i miei software dopo anni danno queste vincite un software che quando l'ho presentato sia questo sia trigger gioca in tre colpi hanno prodotto una marea di vincite in due tre colpi anche terni secchi e questa è l'ennesima prova che alla base dei software non basta creare il programma ciò che è importante è lo studio che tu metti alla base per fare un esempio puoi avere la macchina più bella del mondo ma se non la sai guidare non te ne fai nulla conta chi la guida nei software conta cosa metti alla base e alla base di questi programmi c'è una mia ricerca sulle spie molto molto forte molto molto profonda perché dopo tanti anni questo programma da ancora gli ambi secchi a colpo nei due colpi 5 65 napoli vinto al primo colpo di gioco proprio nell'estrazione di ieri martedì 9 di aprile quindi è un software assolutamente da acquisire perché vi produce delle previsioni che poi vi danno questi risultati quindi cari amici per quanto riguarda i miei programmi potete acquisire o il singolo software oppure l'intero pacchetto dei miei programmi in grande promozione 348 75 47 715 contattatevi via whatsapp per avere il software tv un software fantastico che ancora oggi dopo anni continua a pagare ambi secchi e terni ambi in terzina e stratti determinati velocissimi in 12 colpi di gioco questa volta ce l'ha dato e ce l'ha pagato al primo colpo quindi mi raccomando bene cari amici mi raccomando a questo software ma vi posso portare altre vincite guardate questo è stato un altro rambo al primo colpo fu elaborato il 16 gennaio non è che vi dico fesserie e mi invento le cose io vi porto tutte le cose documentate ciò che dico è tutto trasparente guardate questa è stata un'altra vincita questa è stata un'altra vincita elaborata il 22 dicembre 58 10 napoli primo colpo che programma è questo cari amici questa è stata un'altra vincita 8 gennaio 24 89 21 secondo colpo genova queste sono alcune vincite dei miei programmi vediamo se ce n'è un'altra di più mi sembra di no il software 3 questo fu un terno secco al primo colpo 9 novembre 2023 terno secco questo è software 3 a differenza di tu gioca in tre colpi guardate però vincere un terno secco a colpo non è cosa da poco 87 69 e si abbina il 4 software 3 e software 2 ne ho presentati certo nel 2023 hanno probabilmente quei 4 5 anni sulle spalle 4 mi sembra siano 4 anni e quindi sono programmi di grande valore il mio consiglio di prenderli entrambi perché danno veramente delle vincite incredibili e prendere un software che voi avete la la tranquillità che vi pagherà anche tra 2 3 anni 10 anni 20 anni perché io su questi programmi ci metto la firma ci metto la mano sul fuoco questi programmi sono ottimi e vanno a pagare perché queste sono le prove quindi mi raccomando cari amici a non perdere il software 2 chi vuole anche 3 sono due software fantastici potete vincere in due tre colpi di gioco e ci sono i fatti reali e documentati voi con il software alla mano potete tutto verificare qualsiasi cosa di quello che vi dico non è che queste qua io me le scrivo me le invento queste vincite sono prese dai programmi quindi software fantastici da non perdere da non perdere chi vuole software 2 lo prende chi vuole 3 lo prende chi le vuole entrambi bene benissimo fa un ottimo acquisto perché avrete due programmi che vi genereranno delle previsioni affidabilissime e credetemi che vincere da uno a tre colpi di gioco non è per niente semplice con questi programmi da quando li ho presentati ad oggi ho raggiunto questo obiettivo ci sono stati vinti vi ho fatto vedere anche dal software 3 dei terni a colpo anche software 2 ha vinto dei terni al primo colpo secondo colpo e vincere in due colpi è veramente difficile e questi programmi riescono a farlo per adesso un saluto a tutti mister spancolotto